E quindi ci sono a casa di Aldi e andiamo a vedere la partita a mezzanotte Si va bene Aspetta che mi ha scritto l'ami No Mi ha chiesto se l'accompagno a fare shopping Eh vabbè le dico che ho un po' di mal di testa Non so se riesco Scusa Lei mi ha risposto Ah ok ho capito Vabbè solo se ti va Beh solo se ti va Solo se ti va un cazzo Francesco ti giuro che se mi facchi stavolta me la leggo il dito E poi mi chiedi anche di farti conoscere le mie amiche Io gli dico che sei un idiota Anzi sai cosa ti scrivo? Che se non mi porti Ah mi ha scritto se non mi porti fa lo stesso